Un incendio di sterpaie si è verificato a Scicli, in contrada genovese Cozzo Pilato, interessando un deposito di autodemolizioni con all'interno un box contenente bombole di ossigeno, acetilene e argon. I vigili del fuoco di Ragusa e Modica hanno chiesto anche l'intervento dell'ispettorato delle foreste, che ha provveduto a circoscrivere l'arrogo delle sterpaie, mentre i pompieri hanno domato l'incendio delle auto e hanno provveduto a raffreddare le bombole. Le fiamme sono state spente in serata. Sul posto anche il personale dei vigili del fuoco di Scicli, carabinieri e polizia. Un altro incendio invece è stato domato a Portulisse, nell'agro di Ispica, in un canneto tra le dune di Santa Maria del Focallo. Qui i pompieri hanno operato in collaborazione con gli uomini della forestale.